Simbolo di una vita che prosegue, seppure con una profonda ferita nel cuore e nella mente. Samuele, il piccolo scampato alla morte, salvato da nonna Donata, che lo ha schermato con il suo corpo su quel treno maledetto della Bari Nord, ha spento sette candeline poste su una bella crostata alle ciliegie. Lui, che ha compiuto gli anni nella stanza dell'ospedale di Andria, alla presenza di mamma e papà, dei cuginetti, delle dottoresse Clown. Super Samuele, che oggi gioca cercando di non ricordare l'inferno di Lamiere Grida, da cui è uscito miracolosamente vivo, guardando i cartoni animati sul cellulare dei Vigili del Fuoco. Un disastro ferroviario, quello consumato così lungo la Bari Nord, che ha inoltre palesato il grande cuore della gente. Una vera gara di solidarietà, che ha visto una fiumana di persone riversarsi nei 21 centi trasfusionali pugliesi, nei corridoi delle banche del sangue della Puglia, tantissimi giovani. Una strepitosa gara di solidarietà, che ha permesso di raccogliere 2.800 sacche, in media quasi 1.400 al giorno, il triplo rispetto alle 464 unità solitamente donate nella giornata media. Nei corridoi, giovani studenti, pendolari, casalinghe con i bambini al seguito, ma anche tanti musulmani per una corsa alla solidarietà, che non conosce differenze di sesso, religione e cultura. Sangue sulla mia terra, scrive in un tweet Biagio Antonacci, l'elenco dei centri trasfusionali in regione, gli orari di apertura postati da Fiorella Mannoia. In Puglia c'è bisogno di donatori di sangue, donate se potete, scrive Anna Tatangelo. Una mobilitazione massiccia per un'immane tragedia. Una macchina, quella dei soccorsi, che si è attivata in maniera repentina, tra protezione civile, operatori del 118, operatori sanitari degli otto ospedali, che hanno accolto i feriti, i medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Una Puglia che soffre, una Puglia che mostra il suo grande cuore e senso di umanità per salvare vite.